A me non piace pubblicare due video nello stesso giorno, questa mattina ero un po' indeciso se pubblicare o meno il video di Formula 1 perché avevo questo retropensiero qui da qualche parte nella testa che mi diceva metti che poi senti il bisogno di fare un video sulla Roma, metti che poi la partita va non benissimo e senti il bisogno di dire qualcosa in un video però alla fine ho deciso di pubblicare il video di Formula 1 e di allontanare questo pensiero ho detto no, non accetto che la Roma anche oggi sbagli la partita, partita sulla carta comodissima in trasferta sì ma comunque a Bologna contro una squadra che ancora deve segnare il primo gol in campionato quale partita migliore per provare a rialzarsi, quindi ho voluto dare per scontato che la Roma oggi in qualche modo anche giocando male magari portasse a casa i tre punti sono veramente ingenuo perché invece eccoci qui nel tardo pomeriggio a commentare una delle più brutte partite che la Roma ha giocato negli ultimi, vabbè, giocato tra virgolette negli ultimi, boh, 5 o 6 anni sicuramente ora non vi racconto quello che è successo perché ormai a questo punto lo saprete tutti chi ha visto la partita, chi ha visto soltanto gli highlights, chi ha visto soltanto il tabellino vabbè, se avete visto anche soltanto il tabellino non c'è niente da spiegare perché il risultato purtroppo non è bugiardo, il risultato è perfettamente giusto e coerente con quello che è stato lo svolgimento della partita il Bologna, squadra ultima in classifica o penultima forse perché aveva un punto comunque squadra che non aveva ancora mai segnato e siamo a fine settembre batte la Roma con due gol di scarto che danno l'esatta misura delle prestazioni delle due squadre quindi non c'è molto a dire sulla partita o meglio ci sarebbe tanto da dire però è sul periodo della Roma non sulla partita in sé perché la Roma la partita non l'ha giocata non è proprio scesa mai in campo e con questo lo dico subito, non voglio togliere meriti a un Bologna che seppur modesto ha fatto la sua partita però ovviamente voglio concentrarmi sulla partita della Roma perché è la Roma che è mancata è la Roma che non sta giocando e non è solo una cosa di questa partita col Bologna perché appena una settimana fa ci troviamo proprio qui a commentare la partita col Chievo il pareggio col Chievo Chievo che oggi perde in casa 2-0 con una modestissima Udinese quindi mi sembra chiaro che è la Roma che ha qualche problema ora la cosa che va per la maggiore in questi casi è senza palle, squadra senza palle, fuori coglioni andate a lavorare, buffoni, ridicoli allora in questi casi il web si popola improvvisamente di figure più o meno improbabili che esprimono il loro pareto in questo modo su Facebook, su Instagram, su YouTube gente che si mette davanti a una videocamera o davanti alla fotocamera di un cellulare e comincia a urlare insulti random che vanno per la maggiore in questi casi quali appunto buffoni, i soli luoghi comuni con tutti i soldi che prendete dovreste correre come se uno l'applicazione al lavoro la mette in base a quanto prende di stipendio cioè soliti discorsi neanche da bar perché al bar si fanno discorsi più intelligenti quindi queste sono semplicemente persone che approfittano di questi momenti immediaticamente favorevoli tra virgolette per fare visual facili per avere un po' di attenzione e per dare in passo alla gente, al pubblico quello che il pubblico vuole io vi faccio il mio video perché ho delle cose a dire ma evito di fare queste cose queste cose le lasciamo ad altri se dobbiamo fare un video facciamolo fatto bene cerchiamo di capire cosa c'è che non va quantomeno cerchiamo di parlare di cose concrete di cose intelligenti detto che capire quello che c'è che non va è praticamente impossibile adesso forse è più facile provare a capire cosa va cosa sta andando bene perché la risposta è molto semplice al momento niente e oggi voglio resistere dalla tentazione di parlare dei singoli anche se poi so già che non ce la farò perché alcune cose vanno dette però è un discorso abbastanza futile perché parlare dei singoli in questa squadra è un discorso vuoto perché anche i giocatori bravi anche quelli che magari si stanno applicando in una squadra del genere in un contesto del genere si perdono come fai a giocare bene in una squadra così però è vero pure di contro che la squadra è fatta da singoli per cui vabbè dai mi fermo cerco di non parlarne dei singoli perché altrimenti andiamo a parlare veramente del niente perché cosa vogliamo giudicare la prestazione di oggi no cerchiamo di fare un discorso un po' più ampio di non parlare di Bologna-Roma ma di parlare più che altro del momento abbiamo già detto delle cose la settimana scorsa cose che rimangono assolutamente valide secondo me però io vorrei fare un discorso ancora più ampio su quello che succede a Roma perché che cosa succede? la risposta purtroppo è sempre la stessa e la cosa peggiore la cosa che fa venire i brividi è che noi tifosi romanisti questa situazione la conosciamo benissimo perché come sempre accade ogni allenatore anche bravo al secondo massimo al terzo anno smette di andare bene nel senso che a un momento di punto in bianco la squadra si mette di traverso e a quanto pare comincia a giocare non dico contro l'allenatore perché nessuno scende in campo per giocare contro l'allenatore ma probabilmente la squadra smette di seguire l'allenatore questo sì perché quando non sei più convinto di quello che stai facendo inizi a farlo male io non credo a quelli che dicono ecco li vedi giocano chiaramente contro l'allenatore perché vogliono mandarlo via nessuno penso sarebbe capace di questo nel momento in cui sei in campo cerchi comunque di giocare la tua partita il problema è che quando non credi più in quello che fai come in tutte le cose automaticamente cominci a rendere molto meno e che la squadra non creda più in quello che fa è evidente non soltanto da come gioca o da come non gioca perché non gioca a calcio la squadra ma è evidente soprattutto dall'atteggiamento dei calciatori in campo oggi specialmente è stato veramente visibile veramente palese questo atteggiamento quasi non rinunciatario quasi svogliato quasi menefreghista è una parola brutta da dire però è quello che io ho visto ho visto giocatori che al di là del fatto che la prestazione è pessima quando sbagliano un passaggio quando sbagliano un gol a porta vuota e penso a Pellegrini o a Dzeko non si disperano rimangono abbastanza indifferenti come se le sorti della partita o della squadra in quel momento a loro non importassero sono lì per dovere di firma devono giocare la partita perché è quello del loro lavoro un po' come quando si va a lavorare svogliatamente quando ti alzi la mantina e dici oggi non c'ho proprio voglia andare a lavorare vai al lavoro fai quello che devi fare ma lo fai contro voglia è capitato a tutti almeno una volta nella vita quindi può capitare anche ai calciatori per carità il problema è che questo lo vediamo in tutta la squadra il calcio pure se è un lavoro è comunque un gioco è un gioco di squadra e lo vedi quando qualcuno sta per conto suo e sta in campo solo perché ci deve stare e questo lo vedo in tantissimi giocatori da Roma ho detto che non voglio parlare di singoli però è giusto sottolineare quelli che secondo me sono un po' gli ultimi a mollare che sono De Rossi soprattutto De Rossi e Manolas che ancora lì vedi che corrono su tutti i palloni e si arrabbiano quando le cose non vanno bene però è chiaro che in due non possono fare molto il resto della squadra è lì gioca in maniera abbastanza passiva e subisce la partita poi perché questo succede quindi mi sembra abbastanza evidente che la squadra abbia mollato Di Francesco io non penso che la colpa sia di Di Francesco l'ho già detto nell'altro video lo ripeto quello che sicuramente è chiaro è che Di Francesco ha le sue responsabilità e sta dimostrando tutte le sue lacune perché un bravo allenatore come dicevo l'altra volta deve anche sapere cosa fare in queste situazioni lui sta dimostrando chiaramente di non sapere cosa fare quindi stanno emergendo dei limiti anche dell'allenatore ma penso che non sia lui il principale responsabile come detto penso che sia soprattutto la società perché se ogni volta a Roma al secondo anno la squadra può permettersi di non seguire l'allenatore perché non c'è una società dietro perché queste cose non succedono da altre parti perché queste cose non succedono all'Inter al Milan dove pure hanno dei problemi ma non hanno questo problema perché lì comunque nelle società ci sono dei dirigenti che sono in grado di prendere dei giocatori e attaccarli al muro tra virgolette ci sono questo a Roma non succede i giocatori a Roma fanno il comodo che vogliono purtroppo questa cosa l'ha sottolineata anche Francesco Dotti in un'intervista in settimana dove ha detto che i giocatori sono delle bestie sono dei bastardi li ha definiti così e l'ha detto lui è uno che in quello spogliatorio ci ha passato 25 anni perché cambiano i giocatori cambiano gli allenatori ma la situazione è sempre la stessa quando gli allenatori cominciano a digerire poco per qualche motivo che noi non sapremo mai l'allenatore questo è il risultato smettono di giocare finché poi inevitabilmente l'allenatore non verrà cambiato quindi io spero che questo momento arrivi presto mi dispiace da morire per Di Francesco che ha dimostrato di essere un allenatore molto valido e sono sicuro che lo dimostrerà anche altrove purtroppo qui a Roma credo che il suo tempo sia già finito questo perché l'ha deciso uno spogliatorio che ha deciso di non non so ha deciso che per qualche motivo Di Francesco non va bene e in tutto questo chi manca è proprio la società perché è la società che non dovrebbe permettere o comunque dovrebbe evitare che questo possa accadere in più la società che continua a difendersi a giustificare le scelte fatte nelle stelle sul mercato ci hanno sempre detto ah abbiamo comprato 12 giocatori dove stanno questi 12 giocatori che abbiamo comprato perché io vedo solo le lacune enormi lasciate dalla partenza di Strotman una ingolana e Alisson oggi Olsen fa un'altra cosa inguardabile da cui poi scaturisce il primo gol per carità Olsen ha fatto benissimo in Coppa con Real Madrid benissimo ha fatto il suo cioè non è che ha fatto chissà quali barati ha fatto il suo è anche vero che quando prendi 30 tiri in una partita è anche facile mettersi in mostra per un portiere e quindi è stato facilitato anche da questo il bravo portiere e ce lo ricordiamo perché abbiamo visto Alisson qui lo scorso anno è quello che viene chiamato in causa uno o due volte e ti para e ti fa anche il miracolo se serve Olsen quando viene chiamato in causa scusate uno o due volte spesso fa le papere oggi ha fatto un'altra uscita completamente a farfalle da cui poi deriva il primo gol che poi non è colpa sua perché poi le recupera la posizione il tiro di Mattiello non è facilmente parabile ci sono 200.000 altre responsabilità in quel gol però anche lì abbiamo visto che Olsen non è adatto a sostituire Alisson a fare il portiere titolare in una squadra che vuole lottare per le posizioni molto alte della classifica ma poi io dico Kolarov l'abbiamo visto che è praticamente scoppiato fisicamente ha bisogno di recuperare Di Francesco gli dà un po' di riposo e mi trovo Marcano difensore centrale altro più di un metro e novanta che mi fa il terzino sinistro che deve fare tutta la fascia e allora Santon che cosa l'abbiamo preso a fare scusate questo Santon che noi ci siamo presi insieme a Zaniolo che tra parentesi l'abbiamo visto a Madrid questi due giocatori che noi ci siamo presi per per Langolan che non va bene perché beve perché fuma però lo stiamo vedendo con l'Inter fa praticamente in gol a partita ma vabbè gli hanno annullato il gol ieri sera però lui c'è sempre nel gioco recupera un sacco di palloni è sempre al solito Langolan è uno che in campo ti dà il suo contributo però abbiamo deciso che qui non andava più bene hanno deciso che qui non andava più bene per prendere Zaniolo che è tutto da vedere e questo Santon che invece non è più tutto da vedere perché non è più giovanissimo e a quanto pare non è neanche buono per sostituire Golarov in una partita apparentemente semplice contro il Bologna no mettiamo Marcano che è un Cristiano di un metro e novanta lo mettiamo a fare il terzino vabbè ma potrei dirvi anche Biandà che è stato preso e non riesce a giocare titolare manco nella primavera oppure Luca Pellegrini a cui è stato fatto un contratto da giocatori di serie A e non lo vediamo mai ci parlano un gran bene di questo Pellegrini che effettivamente ha fatto bene anche nel precampionato però poi non può giocare anche col Bologna però Zaniolo può giocare al Bernabea scelte completamente illogiche ed è qui che probabilmente poi c'è anche la responsabilità dell'allenatore però va anche detto che è stato fatto un mercato che probabilmente con Di Francesco non c'entra niente perché al di là del fatto dell'operazione in Angolanza Dagnolo Santon è stato preso Pastore che probabilmente Di Francesco non avrebbe mai voluto perché abbiamo capito che ormai c'è questo equivoco tattico per cui hai speso i soldi per Pastore Pastore lo devi far giocare perché comunque è anche un bravo giocatore però pur di farlo giocare lo metti fuori duolo la Roma è piena di mezze punte quando il mondo di Francesco non prevede mezze punte quindi è chiaro che il mercato non si fa di concerto con l'allenatore questo è un altro problema però capite che il problema grosso secondo me è la società poi è chiaro che ci sono anche delle responsabilità in qualche modo tecniche perché la Roma è la squadra più alta della serie A questo l'abbiamo già detto in qualche video passato forse quello sul mercato è la squadra mediamente con i giocatori più alti in serie A e la Roma non prende mai una palla di testa la Roma non capitalizza un calcio piazzato i calci d'angolo vengono continuamente buttati corti sul primo palo a mezz'aria quando c'hai dentro c'hai ecco Fazio, Marcano, Dzeko c'hai gente altissima c'hai Cristante che pure è alto c'hai giocatori veramente alti in zonzi quando gioca e tu butti la palla sempre corta sul primo palo non si riesce a fare uno schema a battere un calcio d'angolo in maniera sensata questa è una cosa che ci dovranno spiegare ed è chiaro che qui la responsabilità è dello staff tecnico di Francesco in primis però non è questo il problema della Roma perché questo problema la Roma ce l'aveva anche lo scorso anno così come aveva il problema di prendere troppi gol anche lo scorso anno però abbiamo visto lo scorso anno che quando una squadra c'è con la testa con i sentimenti anche se ha dei problemi se è un gruppo unito che in qualche modo va nella stessa direzione rimano tutti dalla stessa parte poi i risultati arrivano perché la qualità c'è io non voglio credere che Cristante sia quello che stiamo vedendo io non voglio credere che Pellegrini abbia dimenticato come si gioca a pallone ma in generale io non voglio credere che questa squadra anche se privata di tre elementi importanti quali Alisson Strootman e Nengolan di fatto sia di questo livello realmente quindi è una squadra che sicuramente può e deve dare di più e deve farlo in fretta ora che succederà purtroppo questa è una storia che ripeto i romanisti conoscono bene perché ciclicamente l'allenatore che l'hanno prima era stato bravissimo a un certo punto non va più bene quindi si tira avanti si perdono un sacco di partite finché poi non si capisce che l'unica soluzione purtroppo è cambiare l'allenatore perché come si dice sempre in questi casi è più facile cambiarne uno che cambiarne 25 quindi andrà via di Francesco arriverà un altro che sarà il salvatore della patria perché ritirerà su un pochino da Roma in classifica e metterà una pezza quantomeno per questa stagione e poi l'anno prossimo magari o nel migliore dei casi tra due anni di punto in bianco smetterà di andare bene anche lui anche lui la squadra comincerà a rimargli un pochino contro e siamo alle solide perché ormai è così è successo col primo Spalletti è successo con Garzia è successo di nuovo con Spalletti è successo anche con altri allenatori che sono durati un po' di meno sta succedendo anche con Di Francesco e sono tutti allenatori bravi questi poi perché comunque possiamo dire quello che vogliamo ma Garzia sta dimostrando di essere un bravo allenatore uguale Spalletti uguale Di Francesco l'ha già dimostrato secondo me lo dimostrerà ancora non è possibile che a Roma non si riesca a rendere per più di un anno un anno e mezzo al massimo due sta cosa è veramente assurda io penso che siano questi i problemi della Roma penso che siano soprattutto a livello societario e si vocifera che Pallotta potrebbe vendere la Roma qualora come sembra a questo punto non gli permettano di costruire questo benedetto stadio io speravo che non succedesse a questo punto inizio a sperare che accada perché è chiaro che questa società questa dirigenza non sono in grado di portare la Roma ad alti livelli è una società completamente assente anzi è presente solo quando c'è da monetizzare con i giocatori veramente bravi che invece sono quelli che dovresti tenere non lo so se devo dirvi cosa spero io io vi direi c'è libero conte sul mercato se tu società vuoi prendere la situazione vuoi dare un segnale forte uno scossone forte mandi via di Francesco che anche se non è colpa sua purtroppo a questo punto è inevitabile e tiri fuori tanti soldi e prendi conte questo però è chiaro che è un sogno non accadrà mai non succederà mai sicuramente verrebbe preso un traghettatore fino a fine stagione e poi boh e poi Dio vede e provvede ragazzi ditemi un attimino la vostra nei commenti voi sapete voi che ne pensate qual è secondo voi il problema e come si esce secondo voi da questa situazione è chiaro che nessuno di noi ha la risposta in tasca anche perché in Italia siamo tutti brai a fare gli allenatori direttori sportivi sappiamo tutto noi io non ho questa presunzione vi ho detto semplicemente la mia poi magari non ci capisco niente di ballone allo stesso modo vi invito a dire la vostra nei commenti è semplicemente uno scambio di chiacchiere basta che lo facciate in maniera civile senza insulti senza esagerare come al solito perché civilmente si può dire tutto quanto quindi sono curioso di leggere la vostra nei commenti e anche di interagire con voi per questo video è tutto avrei sperato di non doverlo fare ma tant'è l'appuntamento è tra 1, 2, 3 giorni non so esattamente quanti con FIFA 19 speriamo di tornare a parlare di cose belle appunto con FIFA arriva la nuova carriera la sto un pochino strutturando a breve ne saprete di più probabilmente ne saprete di più su Instagram quindi seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite XanderGamer90 comunque trovate il link in descrizione è tutto dai ci vediamo presto con nuovi video un saluto ciao grazie a tutti